Buon pomeriggio amici e vali benvenuti allo stadio Mario Bateni di Rovigo per l'anticipo del quattordicesimo turno del campionato d'eccellenza tra FNCZ Rugby, Rovigo Delta e in società sportiva Lazio. Diversi cambi però sicuramente è nelle corde di Rovigo quello che bisogna fare bene. Di segnamento di Barrio scusa si interrompo Antonio ma ha da notare appunto la prima segnatura di giornata. Ancora i mediani laziali, riesce con... Bravi! E ottime mani della Lazio con la meta di Cugini. Quindi vuol dire che la Lazio è una squadra spregiudicata, una squadra che... Casolari ancora con Damiani e c'è la meta della Lazio. Proprio per ricordare insomma le gesta. Jacques Momber che poi va a pulire Leo Mantelli, Cicchinelli, Lucio per Denis Messorovic con Guido Barion fuori. Attacca lui, adesso concede lo vale Guido Barion per la seconda meta di giornata dell'ala rosso-blu. Che muovendo la palla probabilmente Lazio sarà in difficoltà quindi penso che Rovigo debba in questo momento, da questo momento in poi. Loro, Boggia, Casolari al placcaggio. Ci prova anche Brancoli, la meta dell'ex. Leo Mantelli, il suo tentativo di conversione non riesce. Il gallese ex Colleferro. Il calcio sembra ben indirizzato. Bandi di linea su, Biffi nel ruolo mediano di mischia. Leo Mantelli, Boggiani, dentro per Samuele Ortis. Pesta sui piedi il veneziano. Biffi. Ancora per Lucio, sull'audi sinistra. Guido Barion, Guido Barion in cespica ma poi va in meta. C'è la meta. Mantelli prova la conversione. È buona, è buona, buona. Bravo Leo. Abbiamo preso il tempo giusto. Lucio Rodriguez, Mantelli, Ruffolo. Peccato, peccato, peccato. Il tempo si accomoda in panchina, in panchina. Giacometti, Casolari, il cellino avanti. Bisogna capitalizzare questo errore. Ci prova Arrigo, scivola via. Il seciliano muove le gambe. Offload per Giacomo Biffi. Il cambio di linea di corsa, bellissima meta. Bravi ragazzi. Come dicevamo noi, questa è stata una meta, tra virgolette, fortuita ma non neanche tanto. Pierini, loro alimenta per Mantelli il loop con Ruffolo. E qui c'è l'intercetto di Miller che prova ad andare in meta lui. Non riesce la francesina a Cadorini. Meta di Miller. Prova la conversione. Parte il Gallese sulle bandierine. Pasini per Mucignat. Non era un gran passaggio quello di Pasini. Mucignat è riuscito a mantenerlo ancora. Ancora premia nel passaggio. Edoardo Ruffolo, dopo il placaggio sul capitano. Lorenzo Balboni vendrà al posto di Mucignat. Vediamo Leo Mantelli se la mette. La mette di fare. Se ne a scara i propri avanti. C'è la meta della Lazio. Contemporanea riscaldamento di Bassona. Val Gallese. Bertelli alza la bandierina. Aiuta. Up and under del Tucumano. Perfettamente fuori dai 22. La presa di Miller non è perfetta. Ci va di piedi al Tucumano. Biffi, Biffi, Biffi. Potrebbe anticipare. Eccola lì. Meta, meta di Biffi. Del Laziale e dare vita ancora al pallone. Innescando poi. Per Miller. Casolari. Il placaggio di Maestrovic riesce quasi a dare la continuità per la corrente. Attenzione per la palla. Ancora buona. L'unico a crederci è Buona Volontà e c'è la meta. E questo insomma diventa un problema. Fortunatamente Rovigo è riuscita a mettere a sicuro. È tarda ad uscire. Ci provano gli avanti. Ottima pulizia di Pavesi su Buona Volontà. Pallone non esce. L'arbitro ferma il gioco. C'è la meta. 49 a 36. Palla fuori. Finisce il match. La FNCZ, Rai, Biro, Vigo Delta. Batte la Lazio.